E' bello a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, qui il vostro Flaity e ragazzi mei. Oggi siamo ritornati su questo nuovo video di World of Warcraft. Tempo fa mi è stato chiesto nei commenti di creare un video dove spiego un po' a tutti quelli nuovi di World of Warcraft come iniziare, che cosa fare e come godersi al 100% l'avventura su World of Warcraft. Allora ragazzoli se volete iniziare su World of Warcraft in descrizione troverete un codice, un link che vi porterà ad Instant Gaming lì con tipo 12-13€, vi farete tutte le espansioni fino alla penultima e 30 giorni di gioco in modo molto low cost. Di conseguenza se volete iniziare ragazzi trovate tutto in descrizione. In descrizione inoltre troverete vari link su come livellare, come fare gold e altre cose importanti che vi serviranno e vi accompagneranno nella vostra avventura su Azeroth. Ok, banda alle ciance e concentriamoci su quello che vogliamo fare. Come vedete ho un paio di personaggi al 120, più altri personaggi in altri realm. Allora ragazzi appena entrate su World of Warcraft vi creerete un personaggio. Io vi consiglio di scegliervene uno che vi piace, che rispecchi quello che a voi piace. Su World of Warcraft tutte le classi oggi giorno sono bilanciate, di conseguenza non ci sono classi migliori e classi più brutte. Qui a sinistra trovate tutte le classi che potrete utilizzare. Scegliete quella che vi interessa. Vi consiglio di leggere tutto premendo su More Info. Qui vi dirà informazioni sul personaggio che avete scelto e poi qui vi dirà le informazioni su ogni classe che voi sceglierete. Ovviamente alcune combo sono buone, ad esempio l'umano ti dice che può rompere gli effetti dei stun, di conseguenza potrebbe essere un buon tank. Che cos'è il tank? Praticamente su World of Warcraft quello che voi fate è crearvi un personaggio che man mano che giocherete si specializzerà in un ambito che può essere danni, healer, ovvero guaritore e tank. Il tank ha lo scopo di tankarsi, ovvero prendere tutti i danni, combatterete contro mostri, mentre dietro al tank ci saranno i DPS che saranno quelli che faranno la maggior parte dei danni e poi dopo l'healer che manterrà vivo il tank e i DPS. Detto ciò ragazzuoli leggete tutti i ruoli che le varie classi hanno, alcuni possono fare i tank, altri possono fare solo danni, altri possono fare ad esempio il druido, può fare letteralmente tutto, può fare il tank, può fare l'healer, può fare il danno da distanza e il danno ravvicinato a voi la scelta. Io vi consiglio di sharevi una classe che a voi piace e un ruolo che a voi piace. Vi consiglio inoltre come primo personaggio di concentrarvi su un personaggio che fa i danni, cercate di farvi un personaggio che fa danni perché è quelli più divertenti. Dopo man mano che prenderete la mano a giocare World of Warcraft vi farete classi specializzate in altri ambiti. Ed eccoci qui ragazzuoli, una volta che sarete entrati nel mondo di World of Warcraft vi troverete circondati da delle quest che sono segnati di fronte a voi con un punto esclamativo. Andate lì, parlate con il tipo che vi dà le missioni, accettate le missioni e fate tutte le missioni. Una volta che avrete terminato le varie missioni nell'area iniziale di gioco, vi arriverà una quest che vi sposterà in un altro luogo. Ad esempio come vedete io ho ripulito tutta la zona iniziale di quest e di conseguenza mi sono ritrovato una quest che mi dice di andare qua giù a Goldshire. Ed è infatti quello che noi faremo. Inoltre come potete vedere sulla mappa ci sono alcune quest disponibili che voi potrete iniziare se andate lì. Allora ragazzuoli, su World of Warcraft ci sono tre tipi di quest. Il primo tipo di quest è quello dove dovrete andare a uccidere 20 mob. Ad esempio, che ne so, vi dici uccidi 20 lupi. Tu vai là, uccidi 20 lupi, ritorni da quello che ti ha dato la quest e termini la tua missione. Il secondo tipo di quest è quella dove dovrete correre in giro per la mappa, spostarvi e parlare con le persone. Di solito sono quelle che vi fanno scoprire nuovi luoghi. E poi finalmente l'ultimo tipo di missione che è quella dove dovrete craftare un oggetto. Ad esempio voi parlate con Pinko Pallino, Pinko Pallino dice mi serve un ingranaggio sfuso. E tu dici, bene, dove lo prendo l'ingranaggio sfuso? Mi raccomando, leggete le quest. Se leggete la quest vedrete che vi diranno, ok, per fare l'ingranaggio sfuso ti serve questa professione e devi craftarmi questo oggetto. Oppure vai su questo venditore, comprami questo oggetto e portamelo. Vedrete che sulla minimappa apparirà questo puntino verde. E voi direte, che cos'è questo puntino verde, questo è il nostro Fly Path Manager. Io perlomeno lo chiamo così. Come vedete, se ci premiamo due volte ci fa vedere alcuni punti. In poche parole, se noi che stiamo qui nel stivale verde decidiamo di andare in un'altra zona che noi abbiamo esplorato basta che premiamo sull'altro stivale e ci porterà lì. Ovviamente per fare viaggi grandi dovrete aver prima esplorato la zona e poi dopo dovrete pagare un po' di gold. Il gold è la valuta di World of Warcraft che si trova qui. Si fa facendo quest, si fa vendendo oggetti, si fa in tantissimi modi. Però se volete sapere come fare gold, in descrizione trovate il video dove io vi spiego come fare gold. Allora ragazzi, come sapete, una persona normale gioca un po' e poi si stanca. Dopodiché decide di disconnettersi dal gioco. Allora ragazzuoli, che cosa vi consiglio? Per disconnettervi dal gioco in modo efficiente, quello che dovreste cercare di fare è trovare una taverna. Le taverne, ragazzi, le potete vedere tantissimo perché di solito davanti a loro c'è una posta, ci sta questo qui che vi dà missioni, eccetera. Voi entrate dentro e una volta che sarete entrati dentro vedrete che appariranno qui accanto al vostro personaggio i ZZZ. Allora, questa è una cosa che accade anche quando state in una città grande, nel nostro caso Stormwind, che tra poco andremo a esplorare. Ovviamente ci sono svariate città in base al luogo dove voi state, però di solito le città grandi stanno sempre nei luoghi vicino a dove si inizia. Di conseguenza non avrete problemi a trovarle e inoltre una volta che avrete terminato tutte le vostre quest, di solito quelle quest stesse vi porteranno nel luogo importante chiamato Grande Città, dove quando starete al suo interno guadagnerete questo buff. Questo buff che cos'è? Allora, come vedete questa qui è la barra dell'exp, più tempo state anche a FK oppure anche mentre state, non lo so, in gioco ma state in bagno, cercate di stare dentro le taverne o città, perché il tempo che passate qui vi dà bonus esperienza che si classifica come bonus per essere riposati. In poche parole il vostro personaggio è riposato e ha questo buff che gli dà un po' più di esperienza. E niente ragazzuoli, detto ciò proseguiamo con la nostra avventura. Allora, boys, ora arriva il punto dove noi sceglieremo le nostre professioni. Voi mi direte, che cos'è una professione? Allora, come stavo dicendo prima e come ho detto nei vari luoghi, cioè nei vari video, nel mondo potrete fare gold. Come fare gold? Per prima cosa ci sono le professioni. Le professioni sono importanti perché vi daranno gold, con il quale potrete comprarvi armature fighe, permettervi tantissime altre cose, ad esempio volare in giro per la mappa, e allo stesso tempo potrete permettervi, grazie alle professioni, alcuni vantaggi, ovvero potrete crearvi oggetti specifici che vi daranno dei bonus molto buoni. Allora, le professioni si possono trovare premendo su questo lente di ingrandimento, andando su townsfolk e cercando profession trainers, così in automatico sulla mappa appariranno tutti gli insegnanti di professioni, che adesso noi non vediamo qui perché stiamo fuori città. Se voi state su una grande città ve le faranno vedere, non vi preoccupate. Andiamo a parlare con uno di questi professori di professioni e andiamo a scegliere la nostra professione. Per iniziare, affinché state livellando, vi consiglio le professioni di erbalismo e scavo, mining, non so come si chiama in italiano perché ho il gioco in inglese. In poche parole, adesso, mentre viaggeremo in giro per il mondo di Azeroth, potremo permetterci di raccogliere dei materiali e poi dopo venderli sulla casa delle aste oppure venderli alle altre persone. Come vedete qui, io ho utilizzato un add-on per farvi vedere dove sono tutti i luoghi dove potrete scavare e raccogliere piantine. Io ho scelto mining e herbalism appunto perché ho un personaggio nuovo e adesso andrò a consegnare qualche quest e cercherò di livellare fino al livello 10, a tra pochissimo. Allora, miei cari, una volta che vi trovate a Stormwind avrete a disposizione tutta la mappa di Stormwind. La zona principale che a noi interessa è questa qui del Trade District perché qui, come vedete in questo luogo preciso qui, c'è la casa delle aste con accanto una taverna. Quello che io vi consiglio di fare è andare a parlare con la caba della taverna, se si può dire, e premere su fai di questo la mia casa. In tal modo nel vostro inventario avrete l'Earthstone che ogni volta che voi lo premerete, ovvero una volta ogni 30 minuti, vi teletrasporterete in questa taverna una volta finito il vostro Hearthstone. Come stavo dicendo prima, adesso andremo a vendere i nostri oggetti ai vari venditori in giro per la città, mi raccomando perdete un po' di tempo e esplorate la città che secondo me lo potrete trovare anche molto divertente. Spegniamo la musica perché è veramente invadente e proseguiamo. Se volete imparare una nuova professione o vi serve qualcosa in giro per la città per le varie missioni, basta che parlate con uno o qualsiasi dei guardiani della città e scegliete ciò che vi interessa in base alle vostre missioni o altre cose. Ad esempio vi serve un coso della posta, un postino, premete qui e sulla mappa apparirà, dove sta? Oh mio Dio, ce l'abbiamo qua dietro e di conseguenza non appare, però apparirà una piccola bandierina con il luogo che avete cercato sulla mappa. Detto ciò ragazzuoli miei, proseguiamo con la nostra avventura e niente, come vi avevo detto prima, adesso che stiamo in città abbiamo il ZZZ e quindi anche noi ci scolleghiamo dal nostro account, il nostro personaggio continuerà ad avere il doppio dell'exp la prossima volta che noi ritorneremo. Entriamo con un altro personaggio che è di livello 25 e mio, perché con lui proseguirò a parlarvi di ciò che dovrete fare su World of Warcraft. Allora ragazzuoli, World of Warcraft è diviso per due parti, se si può dire. La prima parte è composta da livello 1 a 60, con il livello 60 ragazzuoli i miei potrete scegliere varie zone dove potrete andare a esplorare, però noi per il momento ciò non ci interessa. Adesso vi parlerò delle vostre specializzazioni, ogni classe ha varie specializzazioni che sbloccate a livello 10, come vedete ogni classe qui ha danni, 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 nel mio caso ho solo danni perché sono il mago, però se siete un livello diverso, cioè se avete un personaggio diverso qui potrete trovare danni, tank e healer in base al personaggio che avete scelto. Quindi leggetevi bene quali sono i vantaggi che vi darà ogni tipologia di scelta che farete e studiatevela. In base a quello scegliete quello che volete fare. Io vi consiglio ovviamente di fare danni perché è fatto molto ma molto meglio. Una volta che avrete battuto il livello 20 ragazzuoli miei, avrete la possibilità di scegliervi una cavalcatura, come ad esempio questa che ho io o da altre. Per imparare a andare con la vostra cavalcatura dovrete andare su una qualsiasi delle città e trovare il professore che vi insegni a cavalcare. Per essere più precisi basta che andate su uno di questi guardiani della città, come ho detto poco fa, e cercate il Flight Master. Una volta che avrete premuto il Flight Master vedete che vi apparirà la bandierina e noi andremo da lui. Di solito vicino al Flight Master ci sta il Flying Trainer con il quale potrete parlare. Come vedete per un tot di soldi potrete imparare a cavalcare. Una volta che avrete imparato a cavalcare dovrete andare sempre vicino al Glyphon Master, il Glyphon Keeper oppure qualsiasi altro keeper che potrete trovare, il quale vi venderà un diverso tipo di cavalcatura per tot soldi e così via. Allora ragazzuoli man mano che livellerete a un certo punto vi accorgerete di una cosa. Se premete il pulsante I vuol dire che avete superato il livello 15. Da livello 15 in poi potrete fare i dungeon. Che cosa vuol dire dungeon? I dungeon ragazzi miei sono delle istanze dove farete delle avventure in cooperativa con altri personaggi, ovvero un totale di 5 personaggi dove uno farà il tank come vi ho spiegato prima, uno farà l'healer e gli altri 3 faranno i danni. La scelta sta a voi quale essere dei 3. Ovviamente io vi consiglio come prima classe, se è la prima, di utilizzare quella dei danni perché la più semplice da capire come funziona è anche la più divertente. Dopodiché dovrete fare cerca gruppo. In tal modo si avvierà la ricerca di un gruppo che di solito richiede alcuni minuti affinché ci siano 5 giocatori. Una volta che avrete tutti i componenti del gruppo vi apparirà una finestra dove dovrete fare accetta o rifiuta. Se accettate vi teletrasporterà dentro un'istanza. Una volta terminata l'istanza non dovrete fare altro che andare a premere con il tasto destro su quest'occhio e fare leave queue and exit dungeon. In tal modo sarete usciti dall'istanza. Le istanze sono comode perché vi aiutano a livellare velocemente però livellando velocemente ragazzuoli miei vi perderete il bello di esplorare il mondo di Azeroth. È una cosa che io vi consiglio di fare perché è veramente divertentissimo esplorare tutto il mondo di World of Warcraft però se volete livellare in modo veloce l'istanza è un modo di farlo. Però comunque altre informazioni su come livellare velocemente in descrizione. Niente ragazzuoli una volta che avrete raggiunto il livello 60 vi apparirà la possibilità di scegliere dove andare. E come sceglierlo? Premete shift j oppure in basso a destra andate su adventure guide e qui ragazzi miei appariranno tutte le cose che vi interessano. Qui ci sono tantissime informazioni dai vari scusate dalle varie missioni mondiali che ci sono in giro fino a quest. Di conseguenza se un giorno vi trovate da qualche parte senza niente da fare semplicemente premete start quest e in automatico questa missione apparirà sulla mappa. Che vi porterà in una zona che non avete esplorato o che probabilmente non avete esplorato e che vi darà la possibilità di iniziare un'altra catena di quest come abbiamo fatto fino ad ora da completare e quindi livellare. In poche parole quello che dovrete fare è livellare, livellare, livellare. Quando finite le vostre quest premete shift j, trovate un'altra quest, start quest, accetta, andate in quella zona, finite le quest e il ciclo si ripete all'infinito affinché non avrete raggiunto il livello 60 che vi permetterà di 1 volare in giro con le vostre cavalcature, 2 accedere ad alcune zone che si trovano affanculo letteralmente perché sono lontanissime. Ovviamente dopo sta a voi la scelta, scegliere in quale luogo volete andare e così via. Allora ragazzoli come vi stavo dicendo se voi premete shift j e siete un livello tra il 50 barra 60 avrete la possibilità di andare e iniziare le quest per la vostra prima espansione che è quella di burning crusade. Praticamente ragazzuoli una cosa che dovete sapere è che ogni espansione di world of warcraft inizia a un certo livello e dal livello 60 fino al 70 ci sono due espansioni che potrete iniziare ovviamente ogni espansione come vi farò vedere ora. Metti caso decidete di iniziare dal livello 60 la vostra esplorazione tra parentesi di nordagna che è una delle possibili scelte perché appena arriverete al livello 60 potrete scegliere tra nordagna e potrete scegliere tra outland ovvero le terre esterne. Dovrete scegliere una di queste due espansioni. Ovviamente qui informatevi esplorate un pochetto tutte e due le zone. Allora su burning crusade c'è uno spirito molto bello c'è uno spirito molto di combattimento. A me piace un sacco outland pure se preferisco nordania perché ha una storia molto ma molto più carina. Ovviamente questa è una scelta che voi dovrete fare. Questa scelta l'avete soltanto in queste due espansioni. Una volta che avrete raggiunto il livello 80 inizierà l'espansione di cataclysm che lì c'è solo quella non potrete scegliere altre espansioni. Vi fate quella. Successivamente una volta che avrete raggiunto il livello 90 avrete modo di iniziare l'espansione di pandaria. L'espansione di pandaria è molto ma molto divertente quindi mi raccomando fatevela tutta e una volta che avrete raggiunto il livello 100 avrete la possibilità di scegliere legion che è un'altra espansione. Ovviamente come vedete ogni espansione ha dei livelli di inizio e di fine ovvero ad esempio come avete visto come state vedendo qui a nordania è dal 60 all'80 più o meno. La stessa cosa vale per outland dal 60 fino al livello massimo di 80. Dopodiché con cataclysm avrete modo di andare a esplorare tutta un'altra zona ovvero tantissime zone cambiano nella mappa eccetera. Avrete modo anche di esplorare tantissime zone vecchie che adesso le vedrete modificate e così via perché il mondo varia in base a come voi livellate. Successivamente c'è pandaria. Pandaria è veramente veramente divertente che sarebbe quest'isoletta qui che voi scoprirete. Come vedete pandaria va dal livello 80 al livello 90. Una volta che avrete sbloccato il livello 90 fino al livello 100 avrete modo di esplorare Drenor. Drenor come vedete dal 90 al 100 è un'espansione molto ma molto bella quindi vi consiglio di farvela tutta. E successivamente per finire ci sta Legion. Legion sono queste isolette qui che sono dal livello 110 al livello 100... cioè scusate dal livello 100 al livello 110. Finito Legion se avete l'espansione di BFA ovvero Battle for Azeroth sblocherete quest'altre due isole che sono 100... 120 praticamente. 110 e 120 scusate. E potrete esplorare tutte queste zone, fare le missioni e così via. E niente questo è tutto riguardo a come funzionano le varie zone di World of Warcraft. Quindi ragazzoli mi raccomando Shift J seguite le missioni quelle che vi consigliano perché in base a quelle avrete modo di esplorare tutto Azeroth. Ovviamente se dovete cercare tra Burning Crusade e Wrath of the Lich King è una scelta vostra. Vedete su internet qualche video, informatevi, vedete qual è quello che vi piace di più e giocate a quello. Però tutte e due le zone sono più che fatte bene e svolgono un ruolo perfetto e qualsiasi delle due voi scegliate. Dopo le altre sono obbligatorie, ci sono quelle quindi in ogni caso non avete scelta, vi farete quelle. Niente ragazzuoli, ci vi becchiamo tra poco. Adesso vi spiegherò un po' come funzionano le zone nuove su World of Warcraft. Man mano che livellate vedrete che cambierete continenti, cambierete mondi, infatti su World of Warcraft ci sono ben tre mondi e vi accorgerete che su alcuni mondi non potrete accedere a questa abilità che avete sbloccato del volo. E voi direte oh mio dio come posso fare senza volo? Io vi risponderò ragazzi non vi preoccupate, anche senza volo riuscirete a fare tutto senza problemi. E per sbloccare il volo sui vari continenti ci sono delle missioni. Per vedere queste missioni dovrete andare in basso a sinistra e in basso a destra sotto ad achievement o archivi non so come si chiama in italiano scusate e dovrete cercare Pathfinder ovvero guida esploratore o qualcosa del genere non mi ricordo come è in italiano però comunque sia se lo cercate lo trovate. Mettiamo caso che a noi ci interessa l'ultima espansione possibile che si accede al livello 120 ok? Che cosa dovrete fare per sbloccare il volo? Dovrete fare Pathfinder parte 1 e poi parte 2. Ecco qui la parte 1 che si fa completando queste quest qui. Per vederle dovrete premerci sopra e qui vi dice esplora questo posto, esplora quest'altro posto e così via. Tornando ancora indietro al Pathfinder numero 1. Qui poi ci sono altre quest. Ad esempio questa dice completa 100 missioni mondiali in giro per Zuld, Zuldazar, Kul Tiras eccetera. E voi mi direte che cosa sono le missioni mondiali? Fate le quest anche se siete al livello 120 e lo scoprirete. Poi dopo esplora Najatar che è un altro posto che dovrete esplorare che si sblocca facendo le quest. Esploratelo. Esplorate Megagon. E' un altro posto che si sblocca facendo guarda caso le quest. Di conseguenza raga anche se avete raggiunto il 120 fate le quest. Perché le quest non vi danno soltanto missioni e esperienza che si quella ovviamente importante ma queste cose vi danno anche alcuni vantaggi come stavo dicendo prima. Ad esempio vi aiutano a sbloccare il volo e così via. Ok ragazzoli miei. Mettiamo caso che voi avete seguito i miei consigli e fino ad ora avete raggiunto il livello 120. Una volta che avrete raggiunto il livello 120 e avrete fatto abbastanza dungeon come vi ho spiegato poco fa vi renderete conto che i dungeon non vi danno niente pezzi di armatura buoni da poter equipaggiare. E voi direte ho finito di giocare? E io vi risponderò no ragazzi proprio ora inizia il bello. Man mano che livellate cercate di comunicare con altre persone cercate di entrare in gilde cercate di interagire con le persone. Se avete domande scrivetemi sotto nei commenti o se avete domande scrivete anche alle persone in gioco che volontariamente con piacere vi risponderanno fidatevi vi sto parlando per esperienza pura e ragazzuoli miei quello che dovremmo fare raggiunto il livello 120 è fare pvp premendo sempre i e cercando vari battleground o altre cose pvp però quello che noi andremo a parlare ora è i premade groups. Che cosa sono i premade groups? Allora se voi avete raggiunto il 120 e cominciate a non trovare più niente equipaggiamenti buoni dovremmo cercare di farvi ritrovare quelli fatti bene. Di conseguenza per cercarli dovrete andare a cercare sotto a premade groups dungeons e fare find group. Qui troverete tutti i gruppi creati di default da altre persone. A esempio come vedete ci sono più 5, fast run, più 0 e così via. Che cosa sono questi più 0, più 5 e così via? Allora più 0 o fast run sono i dungeon un po' più difficili di quelli che di solito fate con il dungeon finder ok? E questi dungeon hanno poca possibilità di dropparvi un oggetto fatto abbastanza bene. Più il numero alto ad esempio più 6 m14 ovvero più 14, più 10, più 12 e così via. Più il dungeon sarà difficile, più dovrete impegnarvi, più dovrete sapere i punti base di world of warcraft. Di conseguenza ragazzi se siete livello 120 ma ancora non sapete bene i dungeon. Fate i dungeon normali affinché voi non capiate cosa c'è da fare sui dungeon normali. Una volta che avrete fatto il master sui dungeon normali potrete andare a fare questi che vi daranno equipaggiamenti veramente veramente buoni. Niente cercate di scrivere con i membri della vostra gilda che di sicuro avete trovato mentre giocate e cercate di fare insieme al loro dungeon o cercate di interagire con loro per capire meglio il tutto quello che dovete fare su world of warcraft. Se avete domande scrivete nei commenti ovviamente. Inoltre una volta che avrete raggiunto il livello massimo cercate comunque di fare le quest perché le quest vi danno molti ma molti vantaggi. Ok ragazzuoli mettiamo caso che vi siete rotti le scatole di fare dungeon mitici ok? Che cosa andremo a fare? Ci sta un'altra parte di world of warcraft che sono i ride. I ride vi permettono di trovare cavalcature pezzi di equipaggiamenti esclusivi che sono veramente ma veramente belli da vedere che una volta che avrete vinto non dovrete fare altro che andare su un trasmugatore che sono questi qua. Fate voi trasmugare mutare il mio equipaggiamento e qui sotto ogni pezzo delle vostre armature potrete scegliere qual è quell'abito che avete sbloccato in precedenza ed equipaggiarlo. Metti caso che ne so un mese fa giocando avete sbloccato delle spagliere carine andate qui premete sulle vostre spagliere e scegliete le spagliere fighe che avete visto tempo fa e le equipaggiate. Non cambierà il vostro equipaggiamento che avete addosso l'unica cosa che cambierà è ciò che vedete di conseguenza non cambia niente spendete un po di gold si però allo stesso tempo vi da un looking molto più carino ecco però tornando a parlare dei ride i ride come stavo dicendo poco fa sono queste istanze dove ci sono tantissimi giocatori ad esempio come vedete qui ci sono due tank 4 healer e 14 persone che fanno danni di conseguenza qui le cose diventano ulteriormente complicate e voi mi direte come possiamo imparare? io vi risponderò cercate video su internet e se siete pigri andate a fare il ride però comunicate a tutte le persone che ci sono in giro che siete nuovi se possono darvi una mano e se possono spiegarvi come funzionano i ride questa cosa potrebbe portarvi a essere chiccati fuori dal ride sappiatelo però allo stesso tempo meglio essere onesti che far fin di sapere qualcosa e alla fine far perdere la pazienza le persone e farsi buttare fuori in modo negativo se si può dire e niente ragazzuoli credo che questo è tutto per il tutorial come ho detto prima se avete raggiunto il 120 e volete implementarvi sul fare gold in descrizione troverete tutti i miei video su come fare gold e niente ragazzuoli spero che questo video tutorial vi sia piaciuto ho cercato di farlo il più breve possibile e anche allo stesso tempo ho cercato di renderlo meno palloso possibile di conseguenza se avete domande se su qualcosa non sono stato spiego è stato chiaro mi raccomando scrivete in descrizione che io cercherò di rispiegarvi nel miglior modo possibile niente ragazzuoli grazie mille per la visual iscrivetevi se non avete fatto e ci beccheremo con il prossimo video bella a tutti dal vostro offline